Piccole ma significative scosse hanno terremotato nei giorni scorsi lo scenario politico al comune di Belpasso, dove si è registrato il passaggio del gruppo Belpasso Futura dalla maggioranza all'opposizione all'interno del Consiglio Comunale, con Massimo Condorelli e Santi Borzichi che ne hanno dato l'annuncio e l'imbarazzo provocato all'assessore Davide Guglielmino. Il sindaco belpassese Daniele Motta proprio su quest'ultimo ha voluto fare delle precisazioni. All'assessore Guglielmino ha detto che non ha aderito all'iniziativa di quello che fino a ieri era il suo gruppo, rinnovo la mia fiducia e apprezzamento per il lavoro svolto e auspico che voglia continuare. Allo stesso modo ringrazio tutti i componenti della mia giunta che hanno dimostrato di lavorare con impegno e abnegazione, seppur in condizioni di grande emergenza. Non è dato ancora sapere dunque se il componente della giunta al comune voglia continuare la sua avventura d'assessore oppure no, mentre sulla decisione del gruppo a belpasso futura il primo cittadino ritiene che già in sede di consiglio è stato dimostrato che le motivazioni espresse pubblicamente su questa decisione sono a suo avviso solo un palido tentativo di trovare delle giustificazioni che di fatto non sussistono. La vera motivazione infatti, secondo il sindaco, è da ricercare nella volontà di provocare una spaccatura politica in vista delle prossime elezioni regionali 2022 e comunali 2023. Una decisione discutibile, commenta De Nellemotta, malecita purché non si gettino gratuitamente ombre sulle azioni altrui, scricchioli i cui effetti saranno evidenti soltanto nel prossimo futuro.